Ciao a tutti, io sono Nell'irfa e oggi andiamo a vedere una build per poter livellare ma utilizzando anche il bastone della vita, quindi una build improntata per fare danno ma anche allo stesso tempo ci riusciremo a curare. Intanto vi invito a controllare anche tutte le playlist di New World per vedere tutte le guide che sono andata a fare. I punti li andrò a mettere per riuscire a fare più danno possibile in forza, quindi andiamo a mettere 195 punti in forza, 5 destrezza, 5 intelligenza, 5 messa a fuoco e infine 5 in costituzione. Sarebbe focus questo qui. Vado a mettere pochi punti nella cura, quindi nel focus, perché appunto questa build è per livellare e quindi dovrò andare a fare più danno possibile per riuscire a distruggere i mob. Però intanto vado ad allenare il mio bastone della vita. L'abilità più importante per quanto riguarda l'accetta è quando vado a prendere la forma del berserker, che è questa skill qua. Infatti in questa modalità aumento i danni del 20%, però deve essere attivata questa skill. Quando sono in modalità berserker, quindi potrò anche spostarmi più velocemente, perché con la seconda, vedete, a caccia, vado ad aumentare il 20% di velocità di movimento. Mentre si è in modalità naturalmente berserker. Questo lo posso andare a utilizzare anche quando devo andare a consegnare, visto che comunque non abbiamo le mount e tutto dipenderà anche dalla nostra velocità, nella consegna e nell'andare a fare le quest. Quindi questa è una skill molto utile, quella del berserker e anche questa sotto, perché mentre io mi vado a correre più velocemente, quindi del 20% in più di velocità, posso anche andarmi a rigenerare la vita. Infatti dice che recupero parte della salute ogni 5 secondi, fino al massimo del 30% della salute massima. Quindi queste tre prime skill sono estremamente importanti. Poi vado ad attivare anche purificazione del berserker, berserker irrefrenabile, purificazione frenetica, contro qualsiasi previsione, attacchi forenti, se il bersaglio ha una salute inferiore al 30%, gli attacchi pesanti e leggeri infliggono un 20% più di dei anni. Quindi molto buona, potenza accumulata, fura implacabile e colpi. Ah, questo lavoro ho già letto. Quindi la forma del berserker è molto importante. Poi per quello che riguarda, quelle da lancio, lancio lacerante, queste qua, lancio critico, critici rinforzanti, lancio infettivo, potenza mortale, trasmissione ad area e sfruttamento. Questo per quanto riguarda, diciamo, la build dell'acetta. Ora vediamo per quanto riguarda il bastone della vita, perché andrò sia a fare danno, questa è un po' ibrida, più centrata sul danno, per livellare, però nello stesso momento andrò anche a curarmi. Quindi andiamo a vedere per quanto riguarda il bastone della vita. Allora, il ramo guarigioni, la più importante che andrò a utilizzare, mentre andrò magari a fare 2-3 mob, butterò per terra questa terra sacra, che è una skill AOE, che vedete, che crea a terra un'area di cura e dura 15 secondi. e guarisce il 20% dei danni d'arma al secondo. Quindi questa è una delle principali che andrò a utilizzare. Poi, terra benedetta, benedetto, assoluzione, tocco riparatore, rivitalizza, velocità disperata, protezione sacra, benedizione divina e infine tocco beato. Poi, per quanto riguarda il protettore, andrò a utilizzare questa qui, la sfera di protezione. Spara un proiettile di luce che fornisce un 15% di fortificazione per 20 secondi, guarisce un alleato del 10% dei danni d'arma e infligge un 146% dei danni d'arma quando colpisce un nemico. Quindi, poi, vado a prendere luce piegata, forza del protettore, tocco del protettore, il faro, anche questo è importante, spara un proiettile di luce che infligge un 146% dei danni d'arma ai nemici. Si attacca al bersaglio e cura tutti gli alleati nelle vicinanze di un 20% dei danni d'arma al secondo per 10 secondi. Infine, luce impregnata, benedizione dello splendore e questa qua che non ho letto, concentrazione luminescente, potenzialmente fornite da te e durano un 20% in più. Quindi andrò a mettere in barra la terra sacra, che sono quelle che andrò a utilizzare, mentre livello, sfera di protezione e infine il faro. Naturalmente, ragazzi, vi consiglio poi di provarle un po' tutte e mettere quelle che vi piacciono di più e lo stile che vi piace di più giocare. Comunque, ragazzi, vi devo sottolineare che queste build vanno poi anche provate sul campo. Sono soltanto delle build di base per quanto riguarda poi il PvE. Più avanti farò anche delle build per quanto riguarda il PvP, ma prima dovremo iniziare a livellare. Poi vi ricordo che a partire dal 28 di settembre ci saranno dei nuovi video dove andrò a spiegare altre cose. Quindi, naturalmente, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!